Buon pomeriggio, benvenuti alla TG2000 Flash, finalmente ci siamo con la cerimonia di inaugurazione a Tokyo. È cominciata ufficialmente la 32esima edizione dei giochi olimpici, spettacolo suggestivo in uno stadio però praticamente vuoto. Sfilano gli atleti dietro le loro bandiere circa 400 gli azzurri, la spedizione olimpica più nutrita di sempre e da questa sera si assegnano già le prime medaglie. E dagli azzurri olimpici ora a Tokyo un videomessaggio di auguri al presidente della Repubblica Mattarella che oggi compie 80 anni, cifra tonda per il capo dello Stato che ha ricevuto gli auguri e una valanga di attestati di stima da tutto, l'arco politico, il premier Mario Draghi li ha espressi in un messaggio, in questi anni il suo equilibrio, la sua saggezza ha scritto, sono stati garanzia di stabilità per il nostro paese. Aumentano i contagi in Italia e sale anche l'RT, secondo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità negli ultimi sette giorni si attesta all'1,26%, la scorsa settimana era allo 0,91%, per vedere un indice così alto bisogna tornare addirittura allo scorso mese di marzo. Cresce anche l'incidenza adesso a 41 casi di Covid ogni 100.000 abitanti, arrivando a sfiorare la soglia di rischio dei 50 casi ogni 100.000 abitanti. E continua la discussione intorno alla riforma della giustizia firmata dalla guarda sigilli Cartabia, diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, compresi alcuni ministri, minacciano le dimissioni, se non ci saranno dicono miglioramenti, il nodo è sempre quello della prescrizione, da sempre osteggiato dai pentastellati, la Cartabia non chiude la porta, la riforma del processo penale, dice, è ancora perfezionabile. Seconda giornata delle G20 sull'ambiente di Napoli, si blocca il negoziato sulla decarbonizzazione, il ministro per la transizione ecologica Cingolani e l'inviato del presidente americano John Kerry sono al lavoro per uscire dall'impasse con l'obiettivo di arrivare comunque a un documento condiviso al termine della giornata di oggi. Chiesta dal PM la convalida dell'arresto per Massimo Adriatici, l'assessore alla giustizia del comune di Voghera, indagato per eccesso di legittima difesa dopo aver ucciso con un colpo di pistola un cittadino di origine marocchine durante una lite. Adriatici, nell'interrogatorio di oggi, durato circa tre ore, ha ribadito la sua avversione dei fatti, il colpo è partito accidentalmente. Caldo rovente in particolare sulle regioni del centro-sud, per questo fine settimana le temperature supereranno i 35 gradi ovunque con punte di oltre 40 in Sardegna, Italia divisa in due domenica con forti temporali grandinate che potrebbero colpire il nord, soprattutto Piemonte e Lombardia. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.30, grazie per averci seguito, arrivederci.